Ben ritrovati amici di Gilda TV. È tempo di vacanze e l'esame di maturità è già un ricordo per studenti e docenti. Un esame, quello di quest'anno, ritoccato non senza contestazioni, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione della traccia dell'argomento storico. Tra gli intellettuali che hanno espresso forti critiche a questa scelta c'è quella del professore di storia e filosofia Giovanni Carosotti, uno dei promotori dell'appello per la difesa della scuola pubblica. A questo appello, ricordiamo, hanno risposto decine di migliaia di docenti. Spesso ospite di Gilda TV, Carosotti recentemente ha scritto un articolo contro la cancellazione della storia nelle tracce dell'esame di maturità per il sito di Aurelio Musi, professore ordinario di storia moderna presso l'Università di Salerno e giornalista del quotidiano La Repubblica. Giovanni Carosotti. L'argomento dell'articolo che ho scritto per il sito curato dallo storico Aurelio Musi e che sintetizzo qui per Gilda TV riguarda il titolo che è stato proposto all'ultimo esame di Stato nella prova di italiano di argomento storico, almeno così pretenderebbe che fosse il Ministero. Si tratta di un argomento importante perché fa seguito a una polemica piuttosto diffusa tra i giornali per cui storici, associazioni storiche e importanti personalità intellettuali hanno criticato il Ministero per avere sostanzialmente abolito tra i temi di italiano proposti all'esame la traccia di argomento storico. Il Ministero in questo caso, non lo fa quasi mai nei confronti dei suoi critici, si è ritenuto in dovere di dover rispondere, affermando che la storia non era affatto cancellata dalle tracce di italiano ma veniva unicamente inserita all'interno della più ampia tipologia B. Tipologia B che però prevede, è più che altro un'analisi del testo, prevede una considerazione di carattere generale che non vuole far riferimento a contenuti specifici ma far sì che l'alunno lì in qualche modo inserisca liberamente a seconda di una propria strategia argomentativa. Io cerco di dimostrare in quest'articolo come questi temi non siano affatto argomenti di carattere storico perché tale impostazione obbliga sostanzialmente a offrire una sola riflessione possibile. Non a caso il tema ha offerto un'ampia riflessione dello scrittore Corrado Stajano, ancora una volta uno scrittore e non uno storico per parlare, per dare spunto a quello che dovrebbe essere un tema di storia, ha un arco cronologico enorme, va dalla prima guerra mondiale al muro di Berlino e chiede di riflettere su che cosa? Sul rapporto passato-presente, di indicare l'importanza del passato, della conoscenza del passato per la comprensione del presente in modo molto generico. Lo studente può fare riferimento agli argomenti che crede, non gliene viene chiesto nessuno in particolare, o anche parlare, qualora non ne ricordi nessuno, di suoi argomenti personali, di sue esperienze personali che con la storia evidentemente nulla centrano. Io contrappongo a questa impostazione pseudo-storica o non storica quelli che sono modelli di autentiche tracce relative ad argomenti storici, per dimostrare quanto un lavoro su queste tracce, se ripetuto nel corso dell'anno, affini decisamente in misura maggiore le capacità critiche di analisi della contemporaneità da parte dello studente, anche se magari circoscritte all'approfondimento di un tema relativo al passato, che solo un lavoro disciplinare così approfondito, sia sul piano contenutistico sia sul piano metodologico, in questo caso storiografico, può veramente portare a un miglioramento delle capacità critiche. Gli studenti dotati di ampie conoscenze culturali, di capacità di confronto, di approfondimento degli stessi, vengono dalle tracce proposte dalla prima prova del nuovo esame di Stato sostanzialmente censurati, se non umiliati. La battaglia per il tema di storia non è una battaglia che riguarda un argomento particolare, perché mette in gioco tutta la struttura della nuova didattica riformatrice. Innanzitutto l'antidisciplinarismo, in secondo luogo l'incapacità o il rifiuto della contestualizzazione, che fa riferimento alla pratica del problem solving, cioè unicamente vedere la risultanza pratica della soluzione di un problema decontestualizzandolo dall'orizzonte di senso in cui quel problema nasce, che è un orizzonte quasi sempre di carattere storico, e in ultimo la didattica delle competenze. Quindi si tratta, a mio parere, di un problema dirimente per affrontare, lo dovremmo fare da settembre in poi, i tentativi che verranno fatti in virtù proprio di queste nuove tracce, di modificare l'impostazione e la programmazione didattica nei docenti, che ancora lavoriamo per favorire l'emancipazione intellettuale degli studenti. Per Città TV, Giovanni Carosotti.